Allora, questa è una struttura che abbiamo adattato per ricavare quattro classi da 50 metri quadriluna per garantire agli studenti il distanziamento da Covid, naturalmente su richiesta del dirigente scolastico già lo scorso anno. Abbiamo ricavato queste quattro aule e abbiamo utilizzato le risorse del decreto legge che era stato emesso proprio per il reperimento di spazi didattici. Le aule sono state ricavate rifacendo l'impiantistica quindi abbiamo chiaramente le certificazioni della nuova impiantistica. La struttura è una struttura che ha l'agibilità sismica pre e post sisma, non ha avuto nessun danno dal sisma del 2009 né da quello del 2016. Naturalmente si tratta di una soluzione temporanea ma noi abbiamo l'obbligo di garantire a tutti i bambini il distanziamento da Covid anche perché nelle prescrizioni delle circolari ministeriali ma anche nel decreto legge dell'agosto 2021 la priorità è la ripartenza in presenza garantendo il distanziamento. Questa è la soluzione che abbiamo trovato tra quelle disponibili sul territorio l'abbiamo trovata dopo una manifestazione di interesse e abbiamo fatto un investimento finanziario notevole per garantire la sicurezza. Ecco però insomma le resistenze e le osservazioni che le vengono fatte da genitori, comitato e chi si oppone a questa decisione lei come le giudica? Non è che sono campate in area si fanno dei riferimenti precisi alle norme, ai pareri? Allora io naturalmente ritengo le preoccupazioni dei genitori legittime ma io ragiono attraverso atti attraverso il rispetto di norme. È evidente che il genitore ha tutto il diritto di essere preoccupato ma deve continuare a fare il genitore, non deve fare l'ingegnere, non deve essere il genitore a valutare se questa struttura è idonea o no. Ci sono le strutture apposite quindi è evidente che io devo garantire la sicurezza e la devo garantire attraverso il rispetto delle norme. A livello di pareri, quelli dell'ASL, di collaudi, come state messi? Come ripeto, le preoccupazioni dei genitori riguardano innanzitutto la sicurezza sismica. La sicurezza sismica è chiaramente garantita dalle agibilità sismiche che abbiamo. Per quanto riguarda i pareri, noi abbiamo tutte le certificazioni sull'impiantistica, sia sull'impiantistica elettrica, visto che abbiamo completamente rifatto l'impianto elettrico. Abbiamo le certificazioni per quanto riguarda l'accesso dei disabili, abbiamo le certificazioni per quanto riguarda le caratteristiche illuminotecniche delle aule, che devono naturalmente garantire condizioni di studio favorevole ai bambini. L'ASL, il parere dell'ASL dell'Aquila? Il parere dell'ASL dell'Aquila, l'ASL sta valutando il parere, io sono convinto che nei prossimi giorni avremo questo parere, che naturalmente dipende dalle certificazioni che abbiamo già inviato. Si parla anche di lavori un po' a rilento per quello che dovrebbe essere un inizio o un ritorno a scuola in tempi accettabili. Io devo garantire la riapertura per il giorno lunedì e sono convinto che questa struttura per lunedì sarà pronta, anche perché il 95% dei lavori è stato già fatto. Stiamo aspettando la ditta di pulizia, stiamo aspettando il traslovo che faremo nelle prossime ore, quindi noi siamo assolutamente convinti di aprire il lunedì. Non teme lei, sindaco, un ricorso che potrebbe quantomeno invertire la rotta di questo percorso, un ricorso disturbatore da parte dei genitori? Io non temo un ricorso perché sono convinto di rispettare la normativa. I genitori, come ripeto, sono liberi di fare le proprie scelte. Io naturalmente devo ragionare sulle soluzioni possibili e devo vedere l'interesse dei 350 bambini che sono scoppiti. Ecco, i bambini vanno ad inficiare anche con degli appartamenti abitati qui, perché vedo che ci sono anche altre porzioni o no? Assolutamente no, perché come vede abbiamo diviso lo spazio dei bambini, lo spazio di entrata dei bambini, dalle due abitazioni che ci sono. Ah, quindi ci sono due abitazioni nello stesso stabile. Sì, ci sono due abitazioni che secondo noi non creano interferenze con lo svolgimento della scuola. Questo spazio è a disposizione chiaramente dei bambini, come è a disposizione lo spazio esterno sopra. C'è l'uscita dei disabili sull'altra parte, quindi noi siamo assolutamente convinti che questa struttura abbia le caratteristiche per ospitare i bambini, pur non essendo naturalmente una scuola, ma non va dimenticato che qui si sta vivendo un'ulteriore emergenza sanitaria.